E' stata inaugurata stamani a Pescara la nuova sala lettura con servizi bibliotecari dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio. La nuova sala lettura di 770 metri quadrati è stata realizzata al piano terra della struttura posta all'ingresso principale dell'Ateneo in Viale Pindaro. Le due sale lettura offrono in totale 122 posti a sedere per lo studio, ampi tavoli muniti di lampade e prese per il collegare i personal computer. Nuovi spazi culturali qui all'Università D'Annunzio con l'inaugurazione della nuova biblioteca. Sì, effettivamente è stata un'iniziativa che ormai aveva bisogno di essere risolta da ormai diversi anni. Purtroppo già dall'origine dell'Università Pescara la servizio bibliotecaria non c'è mai stato. Noi abbiamo dato questa soluzione che lo chiameremo di Colombo perché è una soluzione banale. Avevamo qui la struttura era destinata alle segreterie, questo edificio era sovradimensionato per le segreterie. Riteniamo che invece la biblioteca sia un elemento cardine della Università per diverse ragioni. Uno perché il patrimonio librario è l'elemento essenziale della cultura e dell'Università, ma l'altro perché deve essere un momento aggregativo. Noi abbiamo grande soddisfazione su questa iniziativa. Gli studenti hanno apprezzato tantissimo, tutto il mondo accademico ha accolto questa iniziativa con favore e noi siamo veramente soddisfatti di questa soluzione che abbiamo dato. Spazi ampi, arredamento colorato e confortevole. C'è un po' di tutto per poter studiare in tranquillità e serenità. Assolutamente sì. Io devo ringraziare il personale della biblioteca che ha recuperato tutto il recuperabile. Ci tengo a precisare che questo intervento è costato soltanto 40.000 euro, quindi un abbazzego rispetto alle abitudini che abbiamo delle spese nel settore pubblico. Abbiamo recuperato i tavoli, abbiamo recuperato gli scaffali. Tutto ciò che era stato abbandonato, l'abbiamo ricolorato, come potete vedere alle mie spalle, sono state tappezzate dal personale amministrativo che ha creduto all'idea e ha reso possibile che queste quattro mura, sterile quattro mura, diventassero un gioiellino di biblioteca, così come potete vedere.